Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino del benessere ipnosi soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora americana la quale mi scrive, dottore come faccio ad eliminare l'insonnia? L'insonnia non dormo da circa tre anni e mezzo e non riesco a fare nessun miglioramento con ciò che ho fatto fino ad oggi. Io gli ho risposto che la causa della sua insonnia è la soluzione al Bergan nel suo subcosciente, se lei riesce a convincere il subconscio, la mente profonda, il pilota automatico, la mente che controlla anche il nostro sonno a non fare la guardia ai nostri pensieri, alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni bene, dormirà di nuovo come un giro. E come fare? Sempre con il potere della propria mente con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Anche con un solo audio mp3 di CS dal titolo No insonnia, un vero e proprio capolavoro costituito da parole naturali, trasparenti, comprensibili, però create ad arte, ad hoc, che cambieranno le immagini subconsce che ti impediscono di dormire. Mi ricordo una volta una signora tanti e tanti anni fa, nel 2010 se non dimentico, alla quale per da cinque anni non riusciva a dormire da quando aveva divorziato ed aveva una piccolina, una bimba. Io stavo dal parrucchiere ed il mio parrucchiere dell'epoca mi disse, c'è questa signora, sapeva che facevo ipnosi, cosa possiamo fare? E io all'epoca gestivo direttamente gli audio mp3 di CS perché oggi li ho ceduti tutti, l'associazione i prologi associati di Los Angeles Beverly Hills, tutti i miei diritti, regalai un audio mp3 di CS dal titolo No insonnia, poi mi dimenticai e dopo 15 giorni, 20 giorni quando tornai dal parrucchiere uscì di nuovo il discorso e lui mi disse, non ci crederai, ma dalla seconda notte la signora dorme come un chino e non finisce più di ringraziarti. Ecco cosa fa il potere della mente ragazzi, la mente è potente, purtroppo poche persone capiscono che è potente nel bene e anche nel male, se lasciata sola, solo il subcosciente può causare danni oppure può essere sotto il gioco dei famosi poteri forti dalla pubblicità a tutto il resto, per cui se tu vuoi veramente vivere felice, dormire come un chiro, risolvi il problema dell'insonnia, utilizza l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio MP3 di CS, perché ho notato dalla mia esperienza diretta sul campo in tutto il mondo che molte persone anche con un solo audio MP3 di CS hanno risolto il loro problema senza fare sessioni online di ipnosi di CS, vera e professionale, seguendo le istruzioni molto facili alla lettera, a prova di nonna, a prova di pigro, a prova di idiota e buttando via l'orologio, perché il metodo di CS, di ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola è un metodo unico al mondo, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film e neanche con la stessa ipnosi conformista commerciale, pur ottima quest'ultima che si studia in giro in tutto il mondo. Fammi tutte le domande del caso, le risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio amico e mia amica mia, alla prossima, ciao!